Nella valutazione della fragilità soprattutto nei pazienti anziani è fondamentale avere un'ottica multidimensionale e per tale motivo sono nate delle linee guida nate dall'interesse di più società scientifiche insieme anche all'Istituto Superiore di Sanità che sono state presentate e pubblicate qualche settimana fa ma di cui se ne parla anche durante la quarantesima edizione del congresso nazionale della SIMG, la società italiana di medicina generale delle cure primarie. Noi approfondiamo questo tema per capire come sono nate queste linee guida e la loro utilità con il professore Alberto Pilotto che è il past president della SIGOT. Professore, da quale esigenza nascono queste linee guida? Di standardizzare operativamente un metodo che è la valutazione multidimensionale che si è dimostrato negli ultimi 30-40 anni essere uno strumento efficace per gestire, classificare e poi gestire e trattare la persona anziana soprattutto la persona anziana più in difficoltà, quella più vulnerabile, quella che noi chiamiamo l'anziano fragile. C'è un'abbondantissima letteratura riguardo che documenta che l'approccio multidimensionale in tutti i contesti, dall'ospedale agli ambulatori specialistici, all'RSA, negli ambulatori di medicina generale risulta essere efficace per promuovere e migliorare una certa di esiti importanti, riduce l'istituzionalizzazione, riduce l'ospedalizzazione, i ricoveri ripetuti e anche permette di identificare quelle che sono le carenze specifiche, i bisogni specifici della persona in modo da poter intervenire e quindi ridurre il rischio di caduta ad esempio il rischio di immobilizzazione, una migliore appropriatezza prescrittiva nei farmaci soprattutto nei casi di persone anziane che sono affette da più malattie, quelle che noi chiamiamo multimorbidità e quindi sono anche costretti ad assumere numerosissimi farmaci, quella che noi chiamiamo politerapia. Se volessimo sintetizzare i punti chiavi delle linee guida, quali sono i principali? La linea guida è strutturata per gruppi di raccomandazioni. Il primo gruppo è qual è l'utilità dell'approccio multidimensionale, quindi del metodo multidimensionale nell'affrontare la persona anziana che viene intercettata in uno specifico setting, ospedale piuttosto che ambulatorio specialistico, piuttosto che cure primarie o medicina generale oppure RSA. Il secondo gruppo di domanda è quali sono gli strumenti di valutazione multidimensionale che si sono dimostrati nel predire degli esiti negativi e gli esiti negativi derivati dalla valutazione multidimensionale sono essenziali per prendere decisioni cliniche, soprattutto nella persona anziana. Il terzo gruppo di raccomandazioni è laddove non abbiamo trovato come gruppo di lavoro letteratura scientifica a supporto del quesito svolgere, condurre e sono state definite delle raccomandazioni di ricerca, quindi raccomandazioni sull'utilità, raccomandazioni sugli strumenti e raccomandazioni di ricerca dove indirizzare nel prossimo futuro gli sforzi anche scientifici e di ricerca per poter dare risposta a delle domande importanti. Oggi in conferenza è stato detto che servono pochi minuti per la valutazione multidimensionale, è realistico? Allora, non è una questione di tempo, esistono diversi strumenti, alcuni strumenti sono più estesi che richiedono un approfondimento e quindi in determinati setting è possibile svolgere un approfondimento di valutazione multidimensionale che non richiede pochi minuti, richiede un percorso di studio perché con la valutazione multidimensionale si studiano almeno sei domini, il dominio funzionale, quello cognitivo, quello nutrizionale, l'aspetto psicosociale, psicomotivo, l'aspetto anche economico e poi lo stato di salute, soprattutto concentrandoci sulla politerapia e la multimorbidità. Ebbene, per esplorare questo richiede tempo in determinati set, però ci sono dei setting in cui il tempo è limitato, per esempio il pronto soccorso, per esempio anche l'ambulatorio di medicina generale, in cui strumenti brevi che però hanno il grande significato di essere stati validati e di essere attendibili come gli strumenti più estesi sono utili e devono essere eseguiti. Nelle linee guida sono specificati anche questi dettagli in cui in determinati setting può essere utile utilizzare anche forme brevi che richiedono la possibilità di fare uno screening in pochi minuti.